Maltempo e allagamenti nel sud salernitano ed in particolare nelle aree costiere che sono state travolte dall'ondata di maltempo, su cui nelle scorse ore la protezione civile della regione Campania aveva diramato l'allerta di colore giallo estesa anche alle prossime ore. Allagamenti in tutto il bussento con le strade rese impraticabili dalle abbondanti piogge e notevoli pericoli anche per gli automobilisti. In particolare a Vibonati il sottopasso che dalla frazione Villammare conduce nel centro storico di Vibonati si è allagato con diversi metri d'acqua che lo hanno reso impraticabile. Sfortunatamente un'auto è rimasta intrappolata sulla strada con la persona a bordo che è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'auto è stata invece travolta dall'acqua. La pioggia intensa non ha risparmiato neanche Sapri, dove si sono registrati allagamenti in diverse zone della città della Spigolatrice. In particolare ad essere rese impraticabili dalle abbondanti piogge cadute nella mattinata sono state le zone di piazza del Plebiscito e via Kennedy con notevoli disagi registrati sulla viabilità. Minacciosi poi i fiumi che hanno raggiunto la piena con preoccupazione per le comunità vicine. I timori legati al maltempo persistono in particolare nelle zone dell'Alto e Basso Cilento, per i quali la protezione civile della Campania ha emanato una nuova allerta meteo fino alle ore 12 di domani. La bomba d'acqua che si è riversata sul golfo di Policastro provocando gravi disagi, in particolare nelle località di Vibonati e Sapri, fortunatamente non ha fatto registrare però danni a persone o cose. Grazie. Grazie.